I podcast dello IAI I berlinesi hanno accolto così, come avete appena visto, un evento storico. A mezzanotte cambia il mondo. Tutti insieme si alzano le barriere che spezzano in due la città. Vecchie e nuove canzoni, una folla di giovani e poi intere famiglie. I vecchi che hanno visto sorgere il muro, i ragazzi che sono nati e cresciuti alla sua ombra. È stata, se vogliamo, un po' il nocciolo di questa riconciliazione dell'Europa. Quindi l'Unione delle Due Germanie all'interno dello stesso Stato è il simbolo dell'Europa che si riunisce. Con tutte le sue difficoltà e diversità. Se vogliamo, e non è un caso che ancora ad oggi, nonostante i passi avanti enormi che sono stati fatti in Germania, soprattutto per, non soltanto per la trasformazione di un sistema politico, ma anche per ridistribuire la ricchezza interna del paese, continuiamo ad avere una Germania dell'Est che politicamente tende ad avere, come dire, un'attrazione fatale verso modelli politici, diciamo, di carattere più autoritario. Basta pensare al successo dell'Alternative Deutschland nelle regioni dell'Est della Germania. E c'è un collegamento tra questo e tra, andiamo a pensare ai paesi Visegrada, in particolar modo alla Polonia e all'Ungheria, in cui anche là esiste questa recrudescenza, diciamo, dell'autoritarismo. Quindi c'è ancora qualcosa di irrisolto. Perché sono transizioni che, appunto, avvengono lentamente, non sono lineari, ci sono tanti su e giù. La direzione di marcia, e questo credo sia importante mantenere l'occhio sulla palla, da questo punto di vista, la ridirezione di marcia continua a essere positiva. È che ci sono tanti alti e bassi su questa via. Oggi, se la si riguarda con occhio critico, sicuramente c'è qualcosa che non ha funzionato. È ovvio, fin troppo ovvio. Basta vedere i livelli di sviluppo, i livelli di benessere, i livelli di pil pro capite tra le due Germanie, che fanno ancora rilevare delle differenze troppo marcate, troppo eccessive. Anche sotto il profilo, diciamo, delle sensibilità politiche, non è un caso che questi fenomeni di successo dei partiti dell'ultradestra, populista, nazionalista, sono particolarmente radicati in quella parte della Germania. L'azzardo che corse Cole con la decisione di riunificare dall'oggi al domani, senza processi progressivi e sulla base dello scambio, un marco, un marco, evidentemente, c'era un'esigenza politica fondamentale per evitare indugi, ritardi, ha avuto qualche conseguenza, nel senso che anche con un drenaggio massiccio di risorse dalla Germania occidentale alla Germania orientale, dall'Europa alla Germania orientale, sono rimasti dei divari di sviluppo significativi con quei conseguenti fenomeni politici che costituiscono un problema che in qualche modo forse hanno impedito alla Germania di svolgere quel ruolo di leadership in Europa che ne avrebbe dovuto competerle per le sue dimensioni, per il suo potenziale economico e politico. Allora anche qui diciamo che la riunificazione della Germania sembrava veramente un elemento di fondamentale importanza per il futuro dell'Unione Europea. Ricordo che proprio a causa della riunificazione si era riusciti a partire con una delle grandi avventure, delle grandi realizzazioni dell'Unione Europea che è l'Euro, si ricordiamo il grande patto fra Mitterrand e Kohl per portare avanti un discorso di maggiore integrazione europea. Tutti sottolineavano il fatto che una Germania riunificata doveva essere in qualche modo controbilanciata da una maggiore integrazione europea. Anche questa speranza e anche questo tragitto alla fine si è indebolito in tutti questi anni e perfino la Germania al proprio interno continua a rimanere un paese diviso non solo dal punto di vista economico delle prospettive di lavoro e quant'altro ma anche politicamente la nascita e la crescita nell'est della Germania di movimenti di origine di destra nazionalisti e addirittura con richiami nazisti fa pensare che il paese non abbia digerito completamente questa grande prospettiva che è stata la riunificazione tedesca. La riunificazione della Germania è stata la riunificazione tedesca mentre tutti noi speravamo che fosse una riunificazione europea. Cioè una delle ragioni per mettere dentro anche i paesi dell'est Europa era quello di riunificare l'Europa certamente attorno a un nucleo anche tedesco perché era quello più potente però tale che diventasse un nucleo europeo. Questo in qualche... ci sono degli aspetti di questo ma è incompleto e quindi in questo senso in un periodo di crisi, di crisi economica eccetera, finisce che o di crisi anche politica come abbiamo anche in questo periodo in Europa, finisce che l'aspetto nazionale tedesco faccia premio su quello europeo e questo ci indebolisce. Il rischio è che da questo rinasca quell'Europa delle patrie, diciamo quell'Europa delle patrie che è sempre molto interconnessa, è sempre stata interconnessa nei secoli ma di solito avevamo risolto queste interconnessioni con la guerra. Ora invece oggi forse c'era la speranza di fare altrimenti. Vorrei sottolineare che questa caduta del muro e poi il processo di unificazione fu parte di un processo di democratizzazione generale che investì anche altri continenti, quindi fu un evento significativo anche da questo punto di vista. Gli anni 90 furono l'anno, diciamo, anni importantissimi per l'avanzata dei processi di liberalizzazione e certamente la vicenda dell'89 e quelle successive e tutto il processo di liberalizzazione nei paesi dell'est fu un punto di riferimento, certamente un modello. Negli ultimi anni ovviamente abbiamo visto anche dei problemi rinascenti per le democrazie, anche quelle mature, però non bisogna dimenticare quanti progressi sono stati fatti in quel periodo e anche grazie alla spinta dell'89. L'altra cosa ovviamente è che poi con la crisi anche dell'Unione Sovietica, che appunto poi si sciolse nel 91, due anni dopo, in realtà si aprì poi anche tutta, che si era già in realtà aperta la stagione, ma si consolidò un periodo di rafforzamento del multilateralismo e della cooperazione multilaterale. Questo è un altro aspetto che adesso è entrato in crisi, quindi nel momento nel quale ci troviamo in queste difficoltà che tutti conosciamo, nel momento in cui stiamo cercando di difendere queste acquisizioni, vale la pena ricordare il nesso che c'è stato fra questo momento di emancipazione e di democratizzazione e gli effetti positivi che ebbe anche a vasto raggio a livello globale sulla scena internazionale. A giudicare dai dati economici, a giudicare soprattutto dai dati politici, sembra non essere pienamente avvenuta, non c'è nessuna frontiera fisica fra le due Germanie, ma resta una frontiera di benessere economico e soprattutto resta una frontiera di percezione politica. L'Est è nostalgico del passato in parte nei suoi elettorati anziani e sembra nostalgico di un passato ancora più lontano nei suoi elettori giovani. È un vulnus per la democrazia tedesca ed è un vulnus per la democrazia europea. Io penso che però la Germania abbia degli strumenti per venire e curare questo vulnus. Con l'altra cosa che vorrei sottolineare è che gli storici hanno guardato a questo periodo, soprattutto negli ultimi tempi, rivalutando molto il ruolo che ebbero gli europei. I governi europei, basti pensare all'azione decisiva del governo ungherese, per esempio, nel determinare questa caduta del muro e poi i successivi sviluppi. Questa è un'importante acquisizione della conoscenza storica, perché si tende a guardare un po' alla guerra fredda tutto come un contrasto giocato fra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, mentre invece bisognerebbe rivalutare anche il ruolo che hanno svolto sia i paesi europei e le dirigenze europee, a partire naturalmente da quella della Repubblica Federale tedesca, ma ovviamente anche gli altri partner che comunque assecondarono questo processo e lo cogestirono in maniera cooperativa, molto efficace, sia anche le dirigenze più aperte, diciamo, come appunto quello ungherese a est. È una cosa di cui noi europei credo dobbiamo andare orgogliosi. Grazie. Grazie.